Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Robocraft Full Spectrum Combat Attenzione questo qui è un update molto grosso su Robocraft Quindi cercherò di farvi vedere un po' che cosa è cambiato Intanto parto dal presupposto che hanno eliminato tutti i blocchi Tutti i livelli dei blocchi Quindi adesso io ho una quantità di blocchi assurda Perché diciamo che si sono sommati tutti quanti Quindi adesso vi parlerò un po' di come funziona il ranking Di come funziona il movimento, le armi, gli special eccetera eccetera Quindi cercherò un attimo di farvi vedere una piccola parte di quello che hanno fatto Quindi come potete vedere il ranking dei blocchi per quanto riguarda questi Sono tutti quanti di 1 Il massimo del ranking che ho visto fino ad ora a meno per quanto riguarda i miei robot è 25.000 Però può superarlo a quanto pare perché ho visto l'arma mega Che ho sbloccato Che dà esattamente 46.000 di ranking Quindi probabilmente potrei andare oltre Ma questo ci arriveremo dopo Comunque come potete vedere qui hanno aggiunto anche dei blocchi Nuovi a cono a piramide che sono solitamente tipo degli angoli diciamo con la forma di cono a piramide Oppure dei blocchi un po' più rotondi invece di essere solamente triangolari Quindi questi qua corrispondono Comunque ve li farò vedere anche per farvi un'idea E poi ci sono le rod che ora danno 3 E l'helio che dà esattamente 234 di ranking Quindi per quanto riguarda ranking i blocchi danno quasi tutti 1 Poi passiamo al movimento Il movimento Qua praticamente abbiamo i vari tipi di ruote I cingolati Le gambe Le overblade E i thruster Le ali E le eliche Allora come potete vedere l'unica cosa che cambia Ovviamente cambiano un paio di cose Tipo gli HP Quindi la vita L'utilizzo di CPU Che non cambia poi più di tanto Ma comunque cambia un po' E come potete vedere c'è anche qui Il ranking 20 di ranking 55 Eccetera eccetera Lo stesso vale un po' per tutti quanti I pezzi che ci sono qui Anche per i thruster Che danno 10 30 88 E fino all'ultimo Che dovrebbe dare 703 Ora passiamo un attimo alle armi Che anche qui Alle armi Gli scudi Vediamo un po' Abbiamo le front laser Che Sono praticamente le armi frontali E quelle alla torretta Come quelle vecchie Però Come potete vedere qui C'è un danno diverso Per ognuna ovviamente A seconda della potenza Della grandezza diciamo Dell'arma Ranking diverso Eccetera eccetera Quindi qui invece c'è una cosa interessante da dire Per quanto riguarda gli scudi Che diciamo hanno mantenuto Il loro vecchio sistema E cosa intendo dire con vecchio sistema Il vecchio sistema È quello là Che voi sbloccherete Questi scudi Con la Come si chiama L'elettroplate Nera Che saranno praticamente Che partono dal Mark 2 Tra virgolette Chiamano così Fino al Mark 9 Fino ad arrivare a questi qua Con l'elettroplate Bianca Che Sono tutti quanti Dei Mark 10 Quindi avranno tutti quanti Gli stessi HP E credo che abbiano anche Lo stesso Non proprio Lo stesso ranking Perché magari questi qua Sono un pochino Più scarsi Però guardando questi Cambiano completamente Il ranking Quindi diciamo che Ci sarà differenza Sul ranking Ma non Sulla vita In generale Degli scudi Cioè almeno del blocco Ovviamente gli scudi Migliorano sicuramente Ma non poi più di tanto Un'altra cosa Molto interessante È che hanno Levato il pilota Quindi praticamente Non c'è più il problema Che dovrete Creare per forza Dello spazio Al pilota Ma soprattutto Non esiste più Quella cosa Che se viene colpito Il blocco Sotto il vostro Pilota Praticamente il vostro Robot esplode Anche se praticamente Siete al 100% Cose che mi sono Capitate ovviamente Beh poi Diciamo che ci sono I radar I receiver Come prima I jammer E cosmetic Ora ci sono I blocchi di vetro Che Se andiamo nello shop Adesso potete vedere Che si comprano Solamente con I punti Quelli da Da shop Quindi vediamo Un po' Cosa abbiamo qui Niente di particolare E qua ci sono Diciamo tutti i prezzi Fate attenzione Soprattutto alle armi mega Parlo per quelli grandi Che Costano Un putiferio Non lo sapevo Onestamente anche perché Se andiamo a guardare Adesso il tech trick È completamente Differente Se prima ricordate C'era un macello Di cose Ora invece È tutta Una Bellina Spirale Sto sbagliando Spirale Sì E come vedete Andando avanti Andando avanti Si sbloccheranno I vari pezzi Ora io Sfortunatamente Sono già a livello 96 Onestamente Ho fatto il livello 96 Ero 94 In pochissime partite E mi manca poco Finalmente Il mio livello 100 Quindi Ho quasi tutto sbloccato Sarebbe però interessante Anche riprendere Un po' dall'inizio Perché Comunque Sembra molto Più divertente Andare a prendere Poi tutti i pezzi Uno per uno Costruire il robot Man mano E soprattutto Non devo cambiare Sempre i cubi Il che è una cosa Fantastica Quindi passiamo subito Al Alla costruzione Di un robot Magari piccolo Questa volta Voglio fare Un robot piccolo Semplice Fattibile per tutti quanti Spero Anche perché Non ho idea Di quanta cpu Si abbia all'inizio Perché potrebbe essere Sui 400 Come potrebbe essere Sui 350 Ad esempio Ora non ricordo Sto andando molto a intuito Quindi c'è Credo di farlo Di farlo comunque piccolo Per essere accessibile Un po' a tutti Ora un'altra cosa Come potete vedere Hanno cambiato La Potremmo chiamarla La ganna per le costruzioni Che vi farà vedere L'orientamento del blocco Con Sottospecie di ologramma La quantità di blocchi Che avete E Che è successo Nel mio primo video Che non sono riuscito A montare Diciamo Un robot Con un minimo Di senso Beh Ho deciso Che prima di farvi vedere Cosa costruisco Lo voglio Lo voglio Provare Ora un'altra cosa Ecco qui La paint gun L'arma che praticamente Servirà per Colorare Il vostro robot Ecco qui Come potete vedere Potete cambiare Il colore Di tutte cose Tranne che Sfortunatamente Ancora non è possibile Cambiare ad esempio Alcuni dettagli Dei cingoli O comunque Delle armi O degli scudi Ci arriveremo anche a questo Poi se volete Cambiare completamente Il colore Del vostro robot Quindi tutti I vostri blocchi Prenderanno Il colore Che avete scelto Tenete premuto Il tasto Testo nel mouse Ed ecco qui Tutto quanto Di un colore Quindi Andiamo un attimo Per dei blocchi Magari un po' più visibili Mentre lo costruisco Anche se ormai I blocchi sono Talmente Unico fondo Che è un po' difficile Capire quasi quasi Cosa sto facendo Comunque Voglio costruire Questo robot Come vi ho detto Molto semplice È adatto Per tutti Quanti Quindi Sarà Un utilizzatore Di SMG Anche perché A me piacciono Molto gli SMG Non tanto perché Sono OP Perché in effetti Sono un pochino Overpowered Su certe cose Perché sono Molto più veloci Però onestamente Li trovo Molto più divertenti Rispetto Agli altri Tipi di gameplay Cioè Ad esempio I plasma cannon Sono buoni adesso Perché Non essendoci più pelota Fanno un sacco di danni Però Diciamo che Non sono il tipo Da plasma cannon Punto Perché sono anche Scarsero E quella è la realtà Non riesco a mirare Molto bene Con I I plasma cannon Ok Faccio Una vera e propria Tavoletta Quindi Adesso Tanto per dargli Qualche piccola forma Comunque mettergli Qualche dettaglio Ovviamente Questo Questa Tutto Quanto a voi Sto cercando di Andarci piano Con l'utilizzo Di CPU Ora Voglio posizionare Le armi Le posizionerò Così Perché sono molto piccole Quindi Sarà molto Facile Riuscire a Metterle Senza problemi Abituato Mai a mettere Per dire Le armi Grosse Tipo Le vecchie Mark 10 Che praticamente Erano enormi Molto più semplice Sicuramente Fare così Ora vediamo Voglio costruire Magari Un Piccolo Tra virgolette Abitacolo Tanto per far Finta che ancora Ci sia Vediamo Vado sempre Con i blocchi Vecchio Che onestamente Li ho provati Quelli nuovi Ma non mi piacciono Poi più di tanto Vediamo un po' Che posso fare Ups Vabbè Questo buco L'ho fatto Involontariamente Ma Lo utilizzerò Vi farò vedere Un po' Cosa sto facendo Qui Una cosa Un po' Insensata Però Ecco qua Un vano motore Per vedere Anche come mettere Dei thruster Più carino Diciamo Dagli un po' Una forma Poi ovviamente Potete fare Quello che volete Vediamo Lo voglio lasciare Bianco Dai lo lascio Bianco Per una volta Invece di farlo Nero Anche perché Il nero È il mio colore Preferito Per quanto riguarda Queste costruzioni Ma anche il rosso Visto che Il colore Del Del mio Simbolo Dovebbe essere Rosso Comunque Voglio fare Un piccolo collegamento Tanto per far finta Che ci sia Un collegamento Fra questa sezione E questa Voglio metterla Così anche Oppure Posso lasciarlo Tranquillamente così E ora vi faccio vedere Per cosa utilizzerò Questo blocco Ora voglio provare Questi qua Che prima Posso fare Ad esempio Una cosa Del genere Tanto per Dargli qualche dettaglio Così Niente di particolare Però onestamente Non mi piacciono Poi più di tanto Vediamo Cos'altro posso fare Passiamo direttamente Al colore No Facciamo una cosa Mettiamo I piccolissimi Traster Come potete vedere L'utilizzo Della cpu È bassissimo Quindi Probabilmente Molti di voi Potranno Costruire Se hanno appena Cominciato a giocare Magari Non hanno Idea di cosa fare Io cerco di darvi Solamente delle idee Ovviamente Non voglio Che questi robot Vengano totalmente Copiati Perché So che sono Diciamo Non Dei Capolavori Ma Sicuramente Posso darvi qualche idea O qualcosa del genere Spero che vi siano utili Ovviamente Diciamo che questo Un po' Il mio utilizzo Di Robocraft Per il mio canale Scusate Sono un po' Senza voce Ok vediamo Come lo coloriamo Mi piace molto L'unione che c'è Tra il colore bianco E il colore blu Ad esempio Va bene Facciamo così Vediamo Questo blocco qui Questo così E questo lo facciamo così Ad esempio Ovviamente potete colorare Come volete Tenete premuto E praticamente sparerete Il raggio Per così Questo qua Lo voglio colorare Ad esempio Per così E questo qua Invece lo lascio bianco Apposta E qui Mancano Gli angolini Che non lascerò Bianchi Farò Solamente Questo Qui blu Tanto per fare Un po' Di Tanto per spezzare Un po' E poi vediamo Un po' Cosa posso fare Esempio Voi vi lascio Bianchi E invece Vediamo un po' Che aspetto Hanno i thruster blu Ricorda molto Sonic Questo colore blu Non lo so perché Forse perché In effetti Sonic è blu Genius No Questo qua Lo lascio bianco L'estamente Gli lascio Qualche macchia Così tanto Per dire Che spezza Anche perché Tutto bianco Poi non Non mi piace Poi più di tanto Facciamo una cosa Un po' A scacchi Tra virgolette Facciamo così Ok Come potete vedere Non c'è Molto utilizzo Di scudi Il ranking Oh cavolo È 666 Mettivo solo Il robot Il robot satanico Oh mio dio Ok Diciamo che Oh lo voglio questo 666 Oh mio dio Lasciamo un 665 Ok Vabbè Non ci sono scudi L'utilizzo Della cpu È abbastanza Basso E direi Che possiamo Direttamente Buttarci Nella mischia Che ne dite Un'altra cosa Interessante Che hanno fatto Hanno finalmente Elevato Le restrizioni Alla battle arena E la De pit Che sarebbe La modalità Tutti contro tutti E modalità Poi strategica Con un team Un po' più particolare E poi è rimasto Il solito team Deathmatch E 25k più Che sarebbero 25.000 punti In più Di ranking Del robot Potete fare Le arene ranked Che sarebbero Praticamente Le classificate Però Noi andiamo Per il nostro Caro solito Deathmatch E sperando che Questa volta Per una volta Un robot Che costruisco Riesca a vincere La sua prima partita Anche se Dirvi la verità Quella di prima L'ho vinta Quindi speriamo Che questa volta Mi porti bene Ah Un'altra cosa Importante Per chi già gioca E magari Non lo sa Per gli account Già esistenti Abbiamo già Il premium Da qui Fino All' L'inizio Dell'anno prossimo Quindi approfittatene Ora Prenderete molti più punti Eccetera Eccetera Ok Vediamo un po' Cosa riesce a fare Questo robot Ah La cosa Molto interessante È che se Non è veloce Come quello Di prima Ma Non so La mia voce sta Andando a quel paese Per qualche motivo Scusatemi Ah Vediamo Cosa abbiamo Certo Certo Come potete vedere Non ci sono Un granché Di medici Però Possibilmente È possibile Fare Un medico Ma soprattutto La cosa che mi piace È che è possibile Fare adesso Dei robot Anche più particolari Però Li vedremo Anche dai livelli Bassi Ehi tu Uh Che colpo Ah mi sa che quello Lai invece Si è tipo Ritirato Perché era Completamente Fermo Andiamo All'attacco Magari Magari vorrei Aspettare Tutto il resto Del mio team Prima di Partire Anche perché Sono molto piccoli Questi robot Però sono Velocissimi E anche un po' Più difficili Da colpire Eccomi Oh Risalmiamo No No Non lo distruggere No No Oh Meno male Sono riuscito a salvare Il mio compagno No Non altro Però Attenzione Devo Risalmarlo Se sparate comunque Con colpi mirati Sarà molto meglio E questo tizio Mi sembra nei guai Vieni qua Oppale E sono a 2 kill Uh Niente male Poi come mobilità Questo robot Se la cava anche Piuttosto bene Guardate un po' Se premo Lo spazio Che dovrebbe essere Forse il freno a mano Non ne ho idea Onestamente Comunque Un'altra particolarità Di cui voglio parlare Mentre sarete in partita E se dopo 10 secondi Non Entrerete In combat Quindi In combattimento Praticamente Il vostro robot Si rigenererà Quindi Non esisterà più Quel problema Magari che rimaniate Bloccati In qualche montagna O chissà cosa Soprattutto la cosa Che mi piace troppo Dei cingoli E che praticamente Riescono quasi A scalare tutto Ok Sono a 3 kill Direi che voglio andare A cappare Mi sa che questa volta Veramente ho vinto Oh mio dio Un robot Che ho costruito Che non Viene distrutto Subito Yeay Onestamente Dopo questo update Che hanno fatto Trovo il gioco Anche molto Più divertente Molto Molto Più divertente Mi sa che Nei prossimi video Potrei anche farvi vedere Qualche tutti Contro tutti Tanto per Cambiare Anche per farvi vedere Un po' Cosa è possibile Fare adesso Ehm Ehi Qualcuno ci spara Dov'è No vabbè Ma ormai Non può fare più nulla A quanto pare Abbiamo vinto E basta E vai Finalmente Un robot Che costruisco Che riesce a vincere Uno E come potete vedere Anche Dalla scoreboard C'è Anche un pozzo Di danni Quindi E' un buon robot Per chi vuole cominciare Molto bene Ragazzi Fatemi sapere Un po' Cosa ne pensate Di questo update Che hanno fatto A me è onestamente Piaciuto moltissimo Perché posso fare Un sacco di cose in più E' possibile Castronizzare Ancora di più Il proprio robot Quindi si possono fare Anche delle cose uniche Ma soprattutto E' possibile Anche giocare Con persone Dello stesso livello Dello stesso calibro Un po' più E in generale Molto più equilibrato La mancanza del pilota A meno A meno costituisce Il fatto che Non Il vostro robot Non verrà distrutto Se viene Subito Colpito Immaginate un po' Questa cosa E il che è fantastico Perché prima Onestamente Un pochino Era brutto Che magari Ti colpivano Il pilota Avevi un robot Super mega gigante Come succede Infatti Con i mega Come succedeva Anzi Con i mega Che magari Veniva colpito Il pilota E quel robot Veniva distrutto Completamente Cioè Il che è Un pochino brutto Considerando che avete Un super mega Robotone gigante E poi Praticamente Viene distrutto Con un colpo Cioè Non è molto conveniente Quindi Spero che il video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento qui sotto E iscrivetevi al canale Per altri video Che arriveranno Molto presto Da Xavion Per il momento è tutto E ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao